Quando spostare le api da un territorio all'altro diviene necessità per la salvaguardia dell'ambiente. La transumanza delle api sta riprendendo piede in tutto il mondo. Inizialmente questa pratica rispondeva ad un bisogno di qualità e gusto del miele. Postando le api in determinate zone si poteva ottenere un miele monoflora, ovvero quello ottenuto da una sola specie di pianta. Oggi però non è più il profumo determinante di un fiore rispetto ad un altro a portare gli apicoltori in viaggio attraverso il territorio, ma sempre di più si tratta di salvare le api stesse. La popolazione delle api è minacciata a numerosi fattori. I pesticidi in primis stanno decimando gli impollinatori, tanto che la mortalità delle colonie di api in ben 31 paesi del mondo sfiora il 25%. Tra le altre cause ci sono i cambiamenti climatici e il dominio delle monoculture in agricoltura. Esse infatti non sono adatte alla vita degli insetti che hanno bisogno di cibarsi di fiori e pollini diversi per non debilitare le loro difese immunitarie, spesso piega serena Milano di Slow Food. Per questo motivo alcuni apicoltori hanno deciso di portare le loro arnie in aree non contaminate, mettendole a disposizione degli agricoltori per compiere l'impollinazione senza rimanerne danneggiate. Le api vengono spostate a chiamata nelle varie culture, un viaggio che parte di notte per far giungere i preziosi insetti operai all'alba nelle culture da impollinare. Negli Stati Uniti la transumanza delle api è un vero e proprio business. In primavera più di un milione di alveari provenienti da tutti gli stati vengono trasportati in California per l'impollinazione dei mandorli. Un'app sviluppata da Università di Firenze, Arpat e Unapi, chiamata Nomadi App, mette online lo stato di salute delle arnie così che l'apicoltore possa ottenere tutti i dati di cui ha bisogno in tempo reale, anche a molti chilometri di distanza. Temperatura interna ed esterna all'arnia, stato di salute delle api, tasso di produzione dei prodotti melliferi. Speriamo che il coraggioso nomadismo degli apicoltori italiani e gli ultimi strumenti tecnologici possano, assieme ad una maggiore tutela ambientale che metta al bando i pesticidi più pericolosi, fa ripartire un settore economico in serie difficoltà, salvando al contempo le api, animali essenziali alla sopravvivenza di molte specie, tra le quali la nostra.